E' una di quelle partite, la prossima contro la Pro Vercelli dove si ha tutto da perdere, bisogna giocare con grande determinazione e anche con grande concentrazione. Sì, hai detto bene tu, affrontiamo una squadra che è terzo ultimo in classifica ma ha dei giocatori di qualità, una squadra che a parte Modena nelle ultime tre partite fuori casa ha vinto a Padova, ha vinto a pareggiata Castellammare di Stabia meritando di vincere e quindi una partita da prendere con le molle. E anche con lo stesso Modena non meritava poi così in modo netto la sconfitta fin tra solo 1-0? Sì, è una squadra che ha dei giocatori di qualità, una rossa cambiata a gennaio, arricchita di giocatori di esperienza, vari borghese, Abate, Cristiano, tutta gente che ha già tanti anni di Serie B quindi hanno la giusta esperienza. Però io guardo in casa mia, sappiamo che è una partita difficile però dobbiamo trovare le energie fisiche e mentali per affrontarli nel migliore dei modi e portare a casa punti. Dicevi prima ai colleghi che in pratica i punti che noi abbiamo sono quelli che meritiamo. Sì, io penso sicuramente la classifica, penso gli specchi i valori che le squadre hanno dimostrato in campo. Questo vale per tutti quindi, non solo per noi. Sicuramente vale per tutti perché non è solo avere un discorso tecnico ma ci sono anche tanti altri discorsi. La classifica dice che noi adesso abbiamo 45 punti fatti in campo e niente, ci sono altri 21 punti a disposizione, ci sono altre 7 partite quindi tutti i discorsi sono aperti, sono aperti per noi come per tante altre squadre. Ecco, parliamo della partita, visto che prima se ne è parlato poco o quasi niente. Noi in questa sfida abbiamo tutto da perdere, siete d'accordo? Certo, certo perché affrontiamo una squadra che è penultima e difficilmente arriverà alla salvezza. Può darti fastidio perché perdere dei punti contro queste squadre... Questi sono tipo delle incognite, sono squadre che possono dare fastidio di qua alla fine, quindi sono partite che non devi steccare, visto che abbiamo già sbagliato tra virgolette una partita l'ultima in casa, quindi non siamo nelle condizioni di poter steccare anche questo. Ecco, ti aspetti un Provercelli o una Provercelli all'ultima spiaggia? Vabbè, questo è scontato, però presumi che venga a vendere cara la pelle? Cioè, può ancora provarci volendo, però deve fare il bottino pieno qui a Clotone? Certo, loro sicuramente devono provare a fare i più punti possibili e cercare soprattutto di fare i tre punti, queste ultime sette partite, punti in tutte le gare. Non cercare di fare il bottino pieno, se no non riescono ad arrivare ai play-out. È una partita difficilissima perché, come hai detto, abbiamo solo da perdere. È una partita importante perché queste sono partite dove i punti valgono doppio e in questo momento della stagione è importante. Grazie. 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 Grazie.